Cassano, probabilmente Allegri lascerà la Juventus. Cassano, probabilmente Allegri lascerà la Juventus. Benvenuti nel canale. E se ami la Juventus e vuoi rimanere ben informato sulla Juve, iscriviti al canale e clicca il campanello in modo da non perderti nulla. Su BoboTV, Antonio Cassano ha attaccato Allegri duro. Sotto, le parole prese da TMV. Molto probabilmente Allegri salterà, devono farlo saltare, la Juve non può giocare a quella merda. L'italiano lo considererebbe per quella panchina. La Juve ha la squadra più forte di tutti insieme all'Inter e non può fare queste cifre qui. Vuole restare e lo dice, ma la Juve può tenerlo. Vorrei lasciarlo a casa, per condividere con lui ha bisogno di una squadra impressionante, dove i giocatori fanno tutto da soli. Allegri sta diffondendo le solite voci attraverso i suoi amici servi, come li chiama Adani. Giuntoli è sicuro che se arriva, la prima cosa che fa è cambiare allenatore. Altrimenti non andrà alla Juve. La compagnia dovrebbe solo mandarlo via. Vuoi avere notizie veloci ed esclusive su Juventus? Iscriviti al canale e clicca sulla campana per non perderti nulla. Ciao! 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 Grazie a tutti.